ehi ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo insieme a lorenzo eh si raga oggi per la prima volta giochiamo insieme a lui in realtà sto con l'account di mio fratello perché lui sta giocando da tablet intanto io col medaglio però sto su un account secondario e niente iniziamo vabbè lorenzo ovviamente non ci sa giocare però devo dire che è un po' bravo ti piace sto gioco o no? si mi piace ciao ciao manuele sto qua no manuele non lo fa prendermi qui vai oh no mi ha ucciso ok io scappo basta ok ho aiutato qualcuno fai spara ma questo qua sta sparando pizzi mi sta uccidendo ok ho fatto una kill ma lui ce l'ha due ce l'ha due ok adesso si ma come rivivere oh oh no ma non la staspera ti prendi il tuo uomo qua buco a mamma no ma che ti gioca ancora giochiamo ma come si chiama in partita da soli? da soli? ma senza persone voglio stare ma come si fa giocare senza persone vabbè regà scappa 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 non è nasconditi nasconditi non mi nascondo qua così non mi trovo ho trovato ma non attenzione attenzione ciao qui c'è un altro ma non scappa 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 vai sopra ok siamo terzi dai un bel un mirumbu scappa 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 ok c'è morta l'ha lanciato un missile qui c'è la che è ok ah vai facciamoci l'ultima guarda cosa ho preso oh c'è l'estate credito no niente jessi oh ho bloccato la nuova schia no vabbè ma no aspetta dove si fa vedere vai facciamo l'ultima partita insieme al lorenzino no devo vedere che c'è c'è l'ultima eh no scelgo io vai intanto ragazzi vediamo direttamente partita ok ragazzi allora lorenzo si è messo brock e niente ok prendiamo queste due casse bravo allora no io ne voglio prendere per favore vai prendi cosa ne ha brrr schifo mamma non mangio un missile poccato ok ok eh ma si no mi devo nascogliare perchè no ciao marta scappa 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 come un cazzo scappa 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 mamma non mi nascogli aspetta no vediamo se viene qualcuno ecco di via no c'è nessuno c'è qualcuno non c'è nessuno non c'è nessuno andiamo ciao attendo ah ciao scontro rinale ok no io mi nascondo no vai vai ah ah ho qualche di morta mi do ah ah ma mamma non c'è nessuno ah 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 ah